Ora o mai più, in forza del nuovo piano urbanistico comunale, il PUC, approvato a metà dicembre dalla giunta di Salerno, che decorso il termine di 60 giorni dal 31 dicembre per la presentazione di osservazioni e contestazioni porterà alla finale approvazione del documento, è prevista la possibilità concreta di dotare il comune capologo di strutture ricettive al fine di implementare e possibilmente stabilizzare la trasformazione economica di Salerno. Il PUC indica le linee guida della città verso il futuro, definisce il fabbisogno di edilizia residenziale sociale, individua le aree di espansione quantifica, le volumetrie turistiche e sportive, delimita le zone di destinazione produttiva. Sotto questo aspetto sono diversi i comparti individuati dalla giunta Napoli, dove realizzare nuove strutture alberghiere, tali da colmare l'evidente storica lacuna di una scarsa offerta. L'area, che nei progetti dell'amministrazione comunale dovrà favorire la nascita di nuovi alberghi, è situata in prevalenza nella zona orientale, tanto per intenderci l'area compresa tra lo Stadio Rechi e il Volpe, zona peraltro già monitorata da gruppi operanti nel settore turistico. Mentre nel centro della città l'unico comparto in grado di poter ospitare un nuovo albergo è quello prospiciente il Grand Hotel Salerno, in pratica l'area attualmente occupata per intero dal parcheggio alle spalle dello stesso albergo che, in presenza di una nuova realizzazione, verrebbe interrato. Se tutto dovesse precedere secondo i piani, l'aggiornamento potrebbe arrivare all'esame del Consiglio Comunale nel mese di marzo e completare così un iter che si è rivelato abbastanza lungo, due anni. Vutata la condizione socio-demografica del Comune di Salerno, la realizzazione di nuove strutture alberghiere è considerata così di fondamentale importanza per una città che ha assistito inerme ad un progressivo impoverimento del comparto industriale e che ora affida proprio al settore turistico le sue ultime speranze di rilancio.